Saranno Stephen Frears, Martin Freeman e Anton Corbin gli ospiti d'onore del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018, la manifestazione cinematografica che dall'8 al 15 aprile si terrà nelle città di Lucca e Viareggio. L'evento comprenderà anche il terzo anno consecutivo per il concorso internazionale di lungometraggi con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, a cui si affiancheranno le anteprime fuori concorso e il consueto appuntamento con il concorso internazionale di cortometraggi. Due le mostre allestite quest'anno dal festival, la prima Lucchino Visconti alla ricerca del tempo perduto, storia di un film mai realizzato che si svolgerà a Palazzo Ducale. Nelle sale del mezzanino della fondazione Ragghianti invece ci sarà cinema d'arte, dialogo inedito, dietro le quinte delle produzioni artistiche Sky, curata da Sky in collaborazione con Alessandro Romanini. E poi Effetto Cinema Notte 2018, la sezione del festival creata per omaggiare film più iconici della storia del cinema, trasformando l'intera città in un set cinematografico a cielo aperto, con 5 aree tematiche e 38 locali coinvolti. Un festival che appunto sta investendo sempre di più sulle anteprime italiane, sui grandi ospiti legati alle anteprime italiane, perché ovviamente il concorso, il fuori concorso rendono ancora più importante e internazionale questa formula unica. Le mostre, la settimana del festival, i grandi autori, i concorsi e il cinema espanso. Effetto Cinema Notte, l'omaggio al cinema tramite tutte le arti, le performance che durante tutta la settimana arricchiscono e accompagnano gli autori e i film del festival.